E adesso vediamo se ci sono domande ITA4. Rab, buongiorno. Buongiorno. Rab, che cosa significa essere ricompensati con la fede permanente? È un grado molto elevato, viene dal grado di Bina. E' un punto di mezzo dove lui acquisisce vasi di dazione nel grado di Bina, dare per dare, al di sopra, cioè si eleva al di sopra del suo ego e questo si chiama giusto incompleto. E' corretto solo alla metà. Lui deve poi ricevere con lo scopo di dare, non dare per dare, perché questo è il suo lavoro adesso. Ma arrivare a ricevere per dare, raggiungere uno stato di giusto completo, cioè nel grado di Bina. La seconda metà. Stati Uniti Nord-Est. Stati Uniti Nord-Est.